Al prossimo episodio Al prossimo episodio Nalazilo se na mestu koje simbolički obeležava početak stvaranja moderne države Srbije, ovdje gde su posjećeni naši knjezovi. Grad Valjevo je i prošle godine u okviru obeležavanja dana državnosti imao značan ulog u rezultat gradova u Srbiji. Dakle, ove godine ovdje na ovom mestu obeležavamo ponovno dan državnosti i kažem simbolično mesto gde su posjećeni knjezovi i znamo da je samo iz teh porodnici Nalazilo, koji su jedino nasljivača moderne srpske istorije i moderne srpske države, da ne nabavimo i kratu Mateju i prvog ministra Luka Skoslova i svih onih ostali koji su obeleženi na ovaj period stvaranja moderne srpske države. Srpske državaška stanica Petnica je povodom sretenja, sam srano. Pa da, među tim institucijama i pojedincima je i državaška stanica Petnica koja je zaslužila to prizvanje. Državaška stanica je održavljeno zbog stvaranja srpske državaška stanica Petnica i gospodinu Majiću. Da vam održeljamo to kao nešto što će održavati. On je održavno sve održavljeno i ono je održavno 30 godina postojano i absolutno zasluženo se dogajamo taj znanje. U znadi da ćemo uspešno prilesti i održavno u naredšetak kapaciteta novih i da će se gledaška stanica uz dugo druga godina, da kažem tako, promorišati grad Vane u nabavlji način. la promessa del plan di valore, il progettivo del progettivo di sredito da lokalna vittoria. Come vi commentate? Quando il momento di tempo è che si pagina, l'ultima della cortina, il 26. del gabinet, il posto mi ha chiuso a chiuso a chiuso a chiuso a chiuso a chiuso a chiuso, e ho chiesto per il momento di posizione memorandolo, ma sono stati in un momento di sasedano, sono stati in una situazione di stavola, sono stati in un momento molto più grande, mi sembra che è neottrino che da partecipare da vade, ma non è un momento di tristinio, ma non è un momento di un momento di che si è realizzato in un momento che si è realizzato in un momento. Quando si fa un tipo di cose, Sì, è vero che si prepara i protetori di presto, che si preparano i priviletici, anche per il weekend, per il sastanaggio, per il srednoglietto, per il memorandum, così da si è tutto quello che si fa, e non sono sicuramente che il giorno di presto. Non siamo preparati per il tempo di organizzare il protetore, per il gruppo di partecipare, per il gruppo di presto. politički marketing ili ozdolini plano i privrede? Voi oprisi? To è praticamente solo un progetto quello che è Bratska uprava con la compagno di Goran, che è molto ozdolina la compagno e la compagno. Nogli ugovor è stata stata in dicembre, meseca, in tre anni, in cui siamo arrivati a vedere che la crisi è stata attraverso la crisi. Pagano prima di Radio. Ora stavano un bel lavoro. Per ora si sono riusci 300 mesi per stranque. La compagno per Gorenograve è stata stata da viagrava delle persone più cattive. A tutte le comuni alla comunità in queste che quando si sono riusci a Gorenograve, sono riuscirato molto da compagno di Gorenograve, car la compagnia Gorenograve è stata molto BIrata, ma piccola, una grande ampia è una stitura per Gorenograve, questa è stata di Militavograve, e per il tema che è stato fatto che il terzo per l'imitore delle scole e che è platito delle scole con la comprensazione e le investimento per cento milioni di denaro attraverso il terzo di compagno di Gorenje a 440 euro per la azione. E' una compagno che si è stato fatto con la crenza, perché è stato un'ata più in grado. Buple capacità e infrastruktura su succedono per compagno di Gorenje e questo è l'unico grado Valjeva. E questo è l'unico grado Valjeva in questo istituzione. E postavamo da i dana Zasoda Gradschi, che preste Stab, aveva novi momenti? Novi. 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 E questo è l'unico grado e stavamo attraverso che sono per ne Il nostro corso di un'esmerza di un'esmerza di un'esmerza di un'esmerza di un'esmerza. maggiore il busco per il gioco non riusciti a fare una volta i sono stati molto affinati e sono stati attivi 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 sono stati più abitanti e sono stati attivi sono stati appassati sì, l'ho gioco è stata un gruppo di scopo i città di fare che sono concretizzati è stato svegliato ovo è una nuova oputljavanca, e se non si può avere una nuova oputljavanca.